DIOS! Sunderland 0! D'Armoy, ora Zagnolo, si gira dentro per Felix, lato corto, si ferma sull'interfondo, ancora per Zagnolo in area, Zagnolo! 2-0 per la Roma, nella golla di Niccolò Zagnolo. Golla corta, verso Sona, chiuso, fallo su di lui. Calcio di punizione per il Sunderland, ancora dalla propria tre quarti campo, ma non c'è più tempo, fischia il signor Bruno Costa, finisce qui il match, la Roma fanno il Sunderland per 2-0. Il gol, non ricordiamo, di Felix e Zagnolo, entrambi nel secondo tempo.